Musica Bastante accidenti da Tumalugà per motivo di falta di preferenza. Riva cammino a Helmi Vils Boulevard, davanti un accidente entre dos veicolos, se che Tumalugà ne ad un'altura di entrata per Baisambil. Un persona di un veicolone davanti che hanno di bastante dolore e a piedi ambulanza in sito, basso un chequeo medico arribe persona a qui. Se si sa qui, è per Baisù Doctore di Caz per ricevere il tratamento medico avanzato. Basta da un materiale a che d'ocassionare in ambos veicolos.